Siamo a bordo del nuovo Bali 38, Casmart, l'ultima nata in casa Bali, in casa Catanà. Il 38 è un Bali a tutti gli effetti, quindi con il portellone basculante e senza reti a prua, con questo bellissimo prendisole. Al contempo è una barca che però è l'unica, vista anche le dimensioni, senza flybridge ed è una barca che strizza l'occhio all'armatore privato, non solo l'armatore professionale, tant'è vero che al di là del layout classico a 4 o 3 cabine è disponibile anche con solo 2 cabine. Il design è super riconoscibile perché siamo l'unico catamarano che invece di avere una dinetta interna e una dinetta esterna c'è un portellone basculante a poppa, quindi un open space con un'unica dinetta e quindi uno spazio vivibile 360 giorni all'anno o tutto aperto o tutto chiuso. Questa è una versione 3 cabine con gli interni nella nuova essenza per il 2023-2024, una cabina armatoriale in uno scafo e due cabine con un bagno nell'altro scafo e una barca con un piano velico abbastanza importante e pensata anche con un genoa prua per poter fare veramente della vela. Devo dire che siamo contenti, meglio di quanto mi aspettassi, visto un momento secondo me di transizione e devo dire che per la prima volta dopo tanti anni abbiamo avuto almeno un 10-15% di visitatori stranieri, quindi un recupero di visitatori non italiani in generale. E questo è anche un bel dato, poi io sono abbastanza nazionalista, quindi è una cosa che fa piacere.